Simone Bonetti, presidente della Proloco, seconda edizione della Vespa della Birra, com'è andata? Ma direi rovinata dal maltempo, sicuramente non abbiamo avuto un buonissimo numero di partecipanti, 25 partecipanti al raduno con il corteo e probabilmente proprio il problema del maltempo ha così un po' impedito ad alcuni appassionati di raggiungere Ardesio per questa manifestazione. Comunque non demordiamo, sappiamo che piace a tutti quello che stiamo facendo, speriamo l'anno prossimo di avere un tempo migliore per questa manifestazione che sicuramente sta prendendo piede, almeno tra gli appassionati di Ardesio. Un piccolo ringraziamento a Enos Zanoletti che con la sua matra, la sua auto d'epoca, è venuto a fare l'apertura del corteo, ringrazio l'amministrazione comunale come sempre per il supporto e ringrazio tutti gli appassionati che hanno voluto raggiungere Ardesio questa domenica. Piero Spampatti è di Gandino, ma a Casnigo ha un museo dedicato alle motociclette. Sì, ho un centinaio di moto raccolti negli ultimi 10-15 anni, una passione che ho preso così con l'andare del tempo. Tengo dei pezzi che hanno un valore aggiunto all'insegna dell'originalità, così vale anche per alcune automobili che tengo. Ci descriva la Vespa che ha portato qui oggi? Io non sono un Vespista, per un motivo solo, che a me piacciono le moto dove si possono vedere il motore, perché è un po' il DNA del mio lavoro. Siccome nella Vespa non si vede il motore, non è che mi piacciono tanto, però così non ci può essere un museo, credo, importante come il mio, dove non ho almeno un paio di modelli di Vespa, tra cui ho portato questo GS qui e l'altra che sono vacanze romane, una del 1961 e l'altra del 1951. Ricordiamo la seconda moto quando Gregory Peck e l'Audio Murphy giravano il film Vacanze Romane a Roma, all'infuori del Colosseo. Ecco il perché si chiama Vacanze Romane. Come le ha recuperate? Le ho recuperate in posti da fornitori che danno dei pezzi autentici. La prima me l'ha data Marzio Lavetti di Bergamo, il GS, un pezzo bellissimo, credo che sia il più bello che sia qui. Invece l'altra l'ho recuperata addirittura sulla Riviera Ligure, Don Signor Michele di Villanova d'Albenga. Ermanno Marinoni di Peia, che modello di Vespa hai portato oggi qui? Una 98 del 1947, conservata, mai verniciata, è la mia preferita delle mie dieci. Come sei riuscito a recuperarla? L'ho recuperata tramite un signore anziano che mi ha sentito parlare da un ricambista, vieni a vederla, io non la uso più e vent'anni fa l'ho portata a casa. Eccola qua, come allora. Quali sono le caratteristiche di questa motocicletta? È priva assolutamente di ammortizzatori, perché è una delle primissime. Il cavalletto purtroppo era stato applicato perché non c'era nemmeno quello e ha tutto il cambio a bacchetta, non a filo. Ed è una delle, diciamo, rarissime perché ne hanno prodotte solo un 2000, sì e no, nel 1947. Grazie. 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 Grazie a tutti.